Ci sarà finalmente il ritorno di Elisa Isoardi in Rai? Da tempo ormai stanno circolando voci simili, così come da tempo i suoi fan sperano di rivederla in televisione. Tantissimi si sono affezionati a lei seguendola all'Isola dei Famosi, così adesso sono tantissimi a volerla seguire nelle sue nuove avventure in tv. Quel momento forse è arrivato, ma se ne starebbe ancora discutendo. A rivelare le trattative in corso è stato TV Blog, che da qualche giorno sta parlando dei nuovi volti dell'estate di Rai 1. Già nei giorni scorsi infatti si è parlato del weekend estivo di Rai 1 dove dovrebbe trovare posto un nuovo programma. Le prime indiscrezioni hanno parlato di uno spazio mattutino condotto da Carolina Ray e non solo. La trasmissione dovrebbe prendere il posto di uno weekend, che è andato in onda la scorsa estate. In un primo momento si è aggiunto al suo fianco Fabio Gallo, poi si è aggiunto anche Roberto Poletti, fatto da D'Agospia. Si era già vociferato della possibilità che arrivasse anche un nome forte della televisione italiana, che magari avrebbe portato pubblico con sé. Sarà proprio Elisa Isoardi quel nome? Oggi infatti sempre Blog ha svelato che la conduttrice sarebbe vicina a questo nuovo programma estivo di Rai 1. Non ci sarebbe ancora un titolo definitivo per la trasmissione ma è possibile invece che tutti e quattro i nomi circolati fino a oggi saranno confermati. Potrebbe essere una conduzione a quattro, con due di loro che avrebbero di sicuro un posto più centrale rispetto agli altri due. In tal caso sarebbero proprio Isoardi e Poletti a conquistare i posti da conduttori principali, con Rai e Gallo che avrebbero ruoli più marginali. Non è da escludere che venga studiato un modo per distribuire al meglio il cast nell'intero spazio e in maniera diversa. Se ne saprà di più nei prossimi giorni, intanto la possibilità che ci sia davvero il ritorno di Elisa Isoardi in Rai dopo la parentesi come concorrente dell'Isola dei Famosi si fa sempre più concreta. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.